Siamo arrivati alla pagina sportiva, ciclismo, giornata amara per Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese della Trek Segafredo si è ritirato dopo una rovinosa caduta nella parte iniziale della tappa di oggi della Vuelta Spagnola. Il corridore ha picchiato il ginocchio sinistro, ha provato a rientrare in gruppo, ma poi a 80 km dall'altraguardo è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Davvero tanta sfortuna per l'alfiere abruzzese che anche al Giro d'Italia, lo ricorderete, era stato costretto al ritiro sempre per i postumi di una caduta. Peccato davvero perché Ciccone aveva tutto per puntare almeno alla top 10. Il corridore abruzzese infatti occupava la dodicesima posizione in classifica generale con un ritardo di 6 minuti e 16 secondi dalla maglia rossa Eking. La tappa è stata vinta dal velocista Jakobsen III Matteo Trentin.